Bounty va eh? Va va, al sud. Dove? Dove? Al sud. No, non va. Dove no? No, no. Sono tornati indietro. Sono alla casetta adesso. Mi sa che c'hanno un morto lì. Usa una Chaos. Oh, li vedo, lo vedo. Colpito. Lì dietro a casa. In Krauts. Qualcuno è morto? L'ho ammazzato io, in Krauts come un coglione.